I'm onto you, yeah you, I'm not your number one, I saw you with her, kissing and having fun Buongiorno ragazzi, bentornati al canale, come sempre Giulio di Musco e a Vita Oggi è domenica mattina, ho deciso di fare un full day of eating per farvi vedere esattamente quello che sto mangiando su questo Barcellona Prep Quindi metterò le calorie in questo momento sullo schermo, come sapete seguo la dieta flessibile Questo consiste in colpire un certo numero di calorie e macronutrienti nell'arco totale della giornata Quindi la frequenza dei pasti, ovvero quando mangiate i pasti e quanti pasti mangiati non importa La ricerca scientifica ha dimostrato che la cosa importante sono i macronutrienti e calorie totali nell'arco della giornata Quindi proverò a colpire questi numeri che vedete qui sullo schermo In questo momento iniziamo la giornata Se mi seguite da un po' di tempo sapete che quello che faccio la mattina si chiama praticamente digiuno intermittente Ovvero intermittent fasting Questa mattina mi sono svegliato intorno direi più o meno alle 10 di mattina In questo momento è luna del pomeriggio e io non ho ancora mangiato nulla Sto bevendo solamente dell'acqua Quindi sono passate più o meno 3 ore E io in queste 3 ore l'unica cosa che ho fatto è ho bevuto acqua Quando sono a dieta questo mi permette di salvaguardare le calorie della colazione Che non è vero che è il pasto più importante della giornata assolutamente Mi permette quindi di conservare quelle calorie per poi avere 2 o 3 pasti più consistenti Più ricchi tra pranzo e cena e questo mi aiuta veramente a rimanere a dieta in modo costante E quando mi inizia a venire fame allora è lì che devo inserire una strategia chiave Ovvero la caffeina In questo caso a me piace farmi come vedete qua questo matcha Che è praticamente estratto di tè verde Ma a volte mi faccio un caffè oppure una Monster 0 calorie Comunque questa è la tecchia Quando mi inizia a venire fame dopo aver bevuto 1 o 2 litri d'acqua durante la mattinata Bevo il mio primo caffè, il mio primo tè o la mia prima bevanda energetica a 0 calorie Questo praticamente mi dà un kick pazzesco Se siete studenti o lavoratori o dovete lavorare la mattina Questo è un ottimo modo per 1 aumentare la produttività 2 non pensare al cibo e veramente sopprimere la fame utilizzando la caffeina Ragazzi eccoci qua Appena tornate a casa vi faccio vedere cosa ho preso come spesa Allora prima di tutto le uova ovviamente queste fonte di grassi e proteine non mancano mai Passiamo dunque poi ai piletti di pollo Questi sono ottimi ponte di proteine e provo a mangiare carne direi 2-3 volte a settimana Ovviamente un po' di bresaola che non è assolutamente come la bresaola italiana Ma dai quando voglia mi faccio un panino con della bresaola Passiamo dunque qua Questa è semplicemente una Sprite 0 calorie Ragazzi queste cose qui non dovete consumarne troppe Ma in moderazione fanno bene Aiutano anche a stare meglio a dieta Perché sono zuccherate quindi rispondono al nostro bisogno di zucchero Quindi io ne provo a consumare quando voglia diciamo Poi passiamo qua ovviamente della verdura Cedriolo, peperone e dei pomodorini che fanno sempre bene E passiamo qua ai carboidrati Come vedete tanta frutta quindi un po' di ananas Mele che sono il mio frutto preferito Questi ottimi snack E un po' di pane quindi questa baguette Che uso quando sono a dieta che mi faccio i panini con la bresaola Quindi questa è la spesa di oggi Niente di troppo grande ma ottima Fonte di proteine Un po' di bevande zuccherate Zero calorie che fanno bene Verdura, frutta Non vi dimenticate verdura e frutta ragazzi Ragazzi quindi eccoci qua Sono le due e mezza Io mi sto guardando ovviamente il gran premio Ecco qui col primo pasto Ho deciso di fare in fretta senza dover cucinare troppo Quindi ecco qui il primo pasto Già l'avete visto mille volte Ci sono tre formaggini Questi qua light da 25 calorie l'uno Con 200 grammi di baguette 80 grammi di bresaola E ovviamente un po' di insalata Quindi dei pomodori e dei cetrioli Mi sembra 150 grammi a testa Ovviamente non ho messo niente olio Niente aceto perché aggiungono solamente calorie Senza riempirmi E qua come vedete La mia 7 up free che vi ho fatto vedere prima Quindi questo sarà il mio primo pasto Calorie e macronutrienti sullo schermo in questo momento Passo velocissimo I sandwich Veramente poca gente dà credito ai panini Ma sono messo una cosa ottima Perché ottima fonte Proteine, carboidrati, verdura Ottimo Mi finisco di vedere il gran premio Mi corro questo pasto Ci vediamo nel prossimo Passati un paio di ore dal pranzo E in questo momento mi faccio una mela Quindi mi faccio questo snack Provo sempre a farmi un po' di frutta Tra i due pasti Quindi tra il pranzo e la cena Mi mangio sempre una frutta Che mi aiuta appunto A sopprimere la fame anche durante i pasti Quindi io mi godo questa mela Mi bevo ancora un po' d'acqua E noi ci vediamo per cena Sono appena tornato da una corsetta Sono le 7 e mezza Sto morendo di fame E quindi sto cucinando Ho controllato quello che mi rimaneva In termini macronutrienti e calorie per la giornata E sinceramente mi mancano ancora Grassi e proteine Carboidrati già andati Quindi vi faccio vedere cosa sto cucinando Qua semplicemente tre uova intere Proteine e grassi E in questa ventola semplicemente Un po' di pollo E ci metterò un po' di ketchup E come verdure metterò i pomodorini Quindi questo sarà il bulk della cena Vi faccio vedere fra un attimo come esce Ed eccoci qua dunque ragazzi Con la cena di stasera Vi faccio un attimo vedere Allora abbiamo del pollo Un po' bruciacchiato Ma molto tipo barbecue Che è estate Quindi alla fine va bene Dei pomodorini Con un po' di ketchup qua per il pollo Ketchup 50% reduced sugar Quindi con metà degli zuccheri E poi qua tre uova intere Non vedo l'ora di mangiare Che oggi avevo veramente tanta fame Io quindi ora mi godo questo pasto Che sarà la cena E forse concluderai macro Oppure no Intanto metto i macro Sullo schermo per questo piatto qui Vediamo più tardi Se ho ancora un po' di spazio Per un dessert o qualcosina Ed eccomi con l'ultimo pasto Della giornata Un piccolo dessert Una piccola ciotola Con dello yogurt 200 grammi di ananas E un po' di cannella Che tanto ormai lo sapete Che metto la cannella Più o meno dappertutto Focalizzati Quindi questo è l'ultimo pasto Ho visto che avevo ancora Un po' di calorie e macronutrienti Quindi ho deciso di farmi Questo piccolo dessert Quindi ora mi godo questa ciotola E noi ci vediamo dopo Ragazzi non avevo mai messo La cannella sull'ananas Ma devo dire Una combinazione veramente ottima Mmm Provatelo Concludo qui il video Metto i macronutrienti totali Della giornata Qui sullo schermo Come vedete Non sono esattamente uguali A quelli che avevo messo All'inizio del video Ma basta che siete Intorno ai 5-10 grammi Di proteine Carboidrati e grassi Quindi Intorno ai 5-10 grammi Dal vostro obiettivo E va benissimo Ricordate La prima cosa La cosa più importante Sono le calorie Non vi soffermate Su quando potete Potete o non potete Mangiare carboidrati O grassi O altro La frequenza dei pasti Oppure l'orario in cui Li consumati È veramente negligibile La cosa importante Sono i macronutrienti Totali Nell'arco Della giornata Un'altra cosa La cosa più importante Della dieta È essere costanti Se voi avete un programma Il programma può essere perfetto Ma se voi non siete costanti Se voi non colpite Quei numeri esattamente Non arriverete da nessuna parte Quindi non è la teoria Del programma Che è importante Ma è voi La costanza In primis Detto questo ragazzi Spero vi sia piaciuto Questo video Che vi abbia dato Un'idea Di quello che mangio io Per questo Barsa Prep Mi raccomando Se vi è piaciuto questo video Buttateci un like Se non siete ancora iscritti Iscrivetevi Che mi sa che Avete visto che Metto fuori Provo a mettere fuori Dei contenuti di qualità Con informazioni utili Vere E senza prendervi in giro Detto questo Ringrazio ogni singola persona di voi Noi ci vediamo In un prossimo video Andateci forte Ciao Ciao